La presenza fra i migranti dei minorenni non accompagnati sta crescendo a vista d'occhio. Lo scorso anno erano 24.000. Diventa sempre più urgente che la legge sulla loro tutela, di cui si sta discutendo nelle aule parlamentari dall'ottobre del 2013, venga approvata nel più breve tempo possibile. A questi ragazzi va garantito il diritto allo studio e all'assistenza sanitaria, secondo protocolli strutturali. È interesse di tutti favorire l'integrazione concreta dei più giovani, anche per sottrarli al rischio della criminalità. Inoltre c'è un aspetto molto importante che non andrebbe sottovalutato. Se questa legge entrasse in vigore, il nostro Paese, che già può avvantare una legislazione all'avanguardia per quanto riguarda l'inserimento delle persone disabili nelle aule scolastiche, diventerebbe un punto di riferimento etico. Insomma, tutelando i minori immigrati, l'Italia riprenderebbe, almeno idealmente, la guida spirituale dell'Europa.